bentornati ragazzi e ragazze benvenuti sul mio canale youtube sono dufomix siamo con le football 2023 anche quest'oggi e dopo pomeriggio come tutti i giorni ormai di consueto portiamo una partita un episodio a volte due a volte una dipende come ci gira dipende l'umore dipende da tante cose grazie comunque per il vostro supporto per i vostri like e i vostri i vostri consensi le vostre condivisioni eccetera grazie per essere presenti nel mio canale quest'oggi ragazzi si cambia modulo abbiamo modulo ho deciso di portare un modulo così abbastanza strano 4 dipensori non più cinque teniamo sempre sulle fasi ho messo però questa volta giordi alba e molina che fa il suo esordio in questa formazione esordio dal primo minuto anche per nkunku che come centrocampista è molto forte ha delle buone caratteristiche dribbling 90 ragazzi controllo palla possesso stretto accelerazione tutti molto alti velocità è buona passaggio verso terra passaggio comportamento difensivo velocità potenza di tiro ragazzi tiro giro diciamo che è un giocatore che ha tante buone caratteristiche l'ho messo lì dietro ai due tre quartisti si sono due stavolta c'erano e di noi entrambi dietro le punte bbappé adriano che possono essere a loro volta sostituite dai patina devo immobile e l'autaro martinzi immobile che ogni volta che per il secondo tempo mi fanno ne prendete online offline non so l'ho messo poche volte ma quando entra mi fa gol e varella ovviamente il perno centrocampo che porta sul gioco davanti alla difesa l'ho messo un po arretrato in panchina tutte le sostituzioni necessarie per questa formazione ovvero il portiere vandic e screener a posto i due difensori e nantes e cansello a posto dei due laterali casemiro può essere a posto di barella come anche depolo che però può andare bene anche al centrocampo come pellegrini che può fare il centrocampista dove pellegrini il centrocampista ma anche il trequartista come lo possono fare sia mesti che neym che possono fare anche le punte come immobili e martini insomma c'è tutto un vario una varietà immensa per registrare la formazione che vogliamo portare adesso ragazzi direi a questo punto di partire dal dono solutore i nostri amici youtubers come sempre salutiamo i nostri amici che portano questo stesso contenuto non il mio ma il loro il loro football sul loro canale youtube e come sempre salutiamo The Last Ace Alessandro Gamer e Burneo Alebenio86 che portano appunto e football lo portano sia in versione registrata ma anche in live sui loro canali vi raccomando seguiteli che sono ragazzi in gamba vi fanno sicuramente divertire con le loro partite le loro prestazioni e poi salutiamo anche due amici che non hanno niente a che fare con il football ma sono simpatici e portano bei contenuti sono squalo calcio e lupo del tubo tutti sei sono linkati nella mia sezione canali mi raccomando in descrizione a questo video abbiamo anche il canale e il gruppo telegram telegram è gratuito ragazzi non costa niente quindi vi invito ad andare su telegram iscrivermi al canale youtube tufomix dove metterò le novità quando farò le live eccetera eccetera tutte queste cose qua e il gruppo invece tufomix e il football dove parleremo di football ma anche di pesca anche di pipa e di calcio in generale quindi ragazzi quello sono entrambi gratuiti sul gruppo volete entrare scrivere lo che volete mettere posti immagini domande e risposte e parole a fare di voi possiamo fare un piccolo minisalotto un tavolo del bar mentre ci fa un trionfo una briscola insomma una cosa del genere non devo stare in compagnia adesso ragazzi dopo essere partiti malissimo quattro partite due punti cioè due pareggi e due sconfitte adesso andiamo a vedere se riusciamo con questo nuovo modulo sempre in contrattacco sempre con allenatore morigno vediamo se riusciamo a dare qualcosina in più a fare qualcosa in più deve fare dei punti ragazzi il minimo dispensabile per restare in divisione ma nove punti e per riuscire a portare in sesta che diciamo che la divisione più dalla stessa da qui sono quelle siamo a noi più consone e adesso ragazzi vediamo un po di divertirsi giocare mi diverto sempre lo sapete perdo vinco pareggio mi casco ma poi alla fine sono sempre contento di giocare perché mi diverto come questo gioco che portiamo tutti i giorni un appuntamento al 17 come anche altri giochi abbiamo un livello divisione 8 ragazzi questo probabilmente o una squadra nuovo ha penetrato vediamo divisione 8 ragazzi anche non è molto linea non è neanche molto alto come formazione probabilmente è fortissimo è una squadra così scarsa per farci credere che deve perdere ma in realtà poi ci segna le gambe e ci frantuma i 10.000 pezzi ma andiamo avanti ragazzi non preoccupiamoci di queste cose qua e andiamo a vedere la nostra formazione tanto mettiamo le variette ben diverse per non incappare in errori ragazzi messi che è il san maxime corone de jon covacic guerriero quadrato link cliccono ibanes va bene vediamo subito per un'altra formazione vediamo tutti in forma a parte c'erano che è un pochetto difettoso ma per il momento otterrei il riuscito perché anche se erano è giù il più delle volte gioca bene lo stesso in panchina che abbiamo per le varie sostituzioni vediamo subito tra l'altro può essere restituito da pellegrini da messi da neymar ragazzi punti sono a posto del pool casimino tutti bene assortiti abbiamo giordi alba e molina sulle fasce diamo loro e diciamo di cominciare a giocare in questa maniera avevamo visto l'avversario come giocatore che modulo gioca un'occhiatina subito 4 2 3 1 una punta sola che che è messi corona e se maxime di dietro perché se maxime a sinistra vabbè non ha messo a sinistra comunque tanti di voi non sono livellati il portiere ragazzi a vita non è per noi livellato questo ragazzi o è fortissimo oppure nel schiappa assoluta in ottava non sappiamo andiamo a giocare se la vediamo subito ragazzi quest'oggi come va dobbiamo cercare di vincere assolutamente per incrementare il punteggio perché due punti dopo quattro partite sono una bella cagata cioè praticamente nulla ok si comincia non ho visto chi gioca a sinistra e a destra vediamo subito penso che siamo noi non mi ricordo l'avversario che attacca quindi alla fase dell'avversario esatto il napoli allenatore darmi e granero quello base non so se fatto una formazione base una casa un secondo account probabilmente tanto per divertirsi vediamo oggi sono già sul palcoscenico e non ci resta che assistere insieme a questi 90 minuti di spettacolo questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza si è cominciato subito primi tocchi di gioco insomma ragazzi questo comincia a traere da fuori aree non trova la porta si valeva la pena provarci anche se segnare da lì non è semplice vediamo tiro lungo vediamo subito dove andiamo con la palla palo testa del portiere la palla è entrata ragazzi una cioppeca del portiere che di testa va messa dentro ma l'errore qua ragazzi è tutto suo del portiere non so se ce la fa rivedere l'errore è proprio il suo del portiere vediamo i passaggi che abbiamo fatto bellissimo il lancio il portiere è la mancata il portiere è la mancata il napoli parte decisamente con il piede sbagliato corona qui può partire il contropiede lungo passaggio in avanti Molina cerca l'uomo là davanti me la questa transizione fabio hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male ma l'hanno sciupata via subito Adriano si allunga per arrivare al pallone Adriano e perchè è la terra questo allarga il gioco a destra vabbè non mi sapore io ragazzi va bene così va bene così quadrato non è riuscito il giro nell'angolo ma è un po' alto il giro di quadrato che ha provato a fare il golazzo ragazzi il golazzo vediamo subito di andare subito su vediamo attacchi in avanti giocarcela in attacco fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone sceglie di andare per via verticali se ne va non può sbagliare c'è tiro madonna che botta è rimessa è rimessa non è riuscito a entrare in campo barellino ho sbagliato ragazzi potevo prenderla facilmente si ho sbagliato eh l'ho guardata io corona ferma l'azione avversario e fa ripartire i suoi c'è messi corona e qui è costretto a cedere il pallone bravo la mette sulla sinistra prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti vede lo scatto e cerca la profondità ah l'ho sbagliato l'ho sbagliato corona prova a spingere sulla corsia di destra bravo la mette sulla spissiante su questo giocatore sta funzionando anche se c'è inevitabilmente il rischio di lasciare scoperti altri spazi che i suoi compagni possono sfruttare evita rischi inutili e la passa dietro allarga il gioco con pallone a sinistra eeeh madonna che culo madonna che culo ragazzi che ha avuto questo vediamo l'attacca normale perchè ho visto che qua ci vuole un minimo in questa azione mancata un po' di inventiva forse cercavano lo spazio per affondare cerca la porta è un grande riflesso ha tirato un baffè subito peccato che non l'hanno beccato il portiere è stato impeccabile il portiere è la presa ragazzo non ce la farei vedere forse ragazzi manteniamo la stabilità economica che tra nulla vediamo di è adriano capocciaccia adriano la capoccia più grossa dell'uest adriano mi sta non mi sta piacendo ultimamente ce lo abbiamo perché ormai si la donna me l'ha presa bravo eh la palla entra in aria lungo vai così occasione per il contropiede è fallo questo non è fallo? non si tira indietro e conquista il pallone molina tenta alla fondo sulla destra adriano un'altra azione in copertura De Bruyne pericolo bella parata ci sarà un minuto di recupero Mbappé ah madonna deviata va bene va bene così spesso devi raccogliere la palla in fondo al sacco primo tempo finisce ragazzi diciamo c'è un goccetto di lemonada una sola rete messa a segno finora ma la partita è ancora lunga e proseguiamo eh cerchiamo di portare la casa portiamo la casa portiamo la casa 4 kg in porta per noi eh portiamo la casa che fa l'avversario? qualche modifica? 1-0 a termine di questa prima frazione vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa vediamo vediamo l'avversario è ancora finito ragazzi cerchiamo di giocarcela bene che ci vogliono i punti eh ci vogliono i tre punti ragazzi per riuscire a smuovere un po' questa classifica siamo due ed è un pochini eh per arrivare a 9 per arrivare a alla nostra alla promozione sapete che insomma ci teniamo a fare bene ok andiamo ragazzi cerchiamo di giocarcela mi raccomando il tifo ragazzi più che potete perché inizia adesso il secondo tempo subito sbagliato va bene la loro partita e pensare di essere ancora sullo 0-0 nessuna delle due parti può allentare la concentrazione proprio adesso vediamo se può capitalizzare bravo Corona a sinistra con il passaggio non è troppo lontano eh lui tira da fuori lui prova a tira da fuori vuole fare gol da fuori questo adesso ragazzi proviamo anche noi fare gol da fuori perché mi sono stupato di vedere i suoi tiri da fuoriare e noi che guardiamo poi mamma noto dai forza palla in avanti e proviamo a ottenere anche noi eh beh questo è un passaggio quantomeno discutibile la metti in avanti e trova bene il compagno e conquista subito la sfera ah fuori gioco merda va bene va bene fuori gioco ci sta fuori gioco ci sta va bene va bene va bene è messa fuori mettiamo di tella lì madonna che l'oraggio maledico che ho fatto dai lungo e adriano calpone porca troia di adriano il anello merdazza di un adriano un brasileno ma merdazza di un testo ecco adriano bravo adriano un cuncu ahhh un baffè grande potete tirare più basso bravo un baffè ma però cerca di tirare meglio ecco adriano da lì può concludere ma dai adriano merda spazia via prontamente la gioca in profondità prova a verticalizzare Kovacic ci prova con un pallone profondo c'è spazio da sfruttare in verticale c'è il colpo di testa fuori e adesso ragazzi mettiamo qualche cambio perché facciamo qualche cambio se me lo fa fare yes allora ragazzi vediamo abbiamo due mediani che sono mezzi morti e li gestituiamo ovviamente con due che sono in forma quindi facciamo Neymar di qua Messi di qua ok no ho sbagliato non dovevo mettere questo ho sbagliato dovevo mettere eh default ok diciamo che adesso ragazzi vediamo come va l'avversario non è ancora pronto manteniamo questo gioco cerchiamo di mantenere il risultato ragazzi che ultimamente rischio sempre di perdere negli ultimi minuti ma quest'oggi vorrei riuscire a portare a casa portare a casa la vittoria sono stanco di l'avversario sta pensando a come controbattere magari sta guardando la mia informazione sta guardando qui chi ho cambiato che è curioso vuol vedere un po' chi abbiamo messo in campo ci sta tutto ragazzi vi ricordo se volete lasciare un like al mio canale è semplicissimo anche un'iscrizione se non l'avete ancora fatta ragazzi fatela pure l'iscrizione non costa niente è gratuita basta attivare la campanella e se avete ammissati ogni tua volta metterò un nuovo video mi raccomando ragazzi condividete anche i video con gli amici in maniera che immobile immobile subito ragazzi immobile no merdazza è purtroppo un bappere gli è scappato fuori però immobile intanto madonna ragazzi fuori va bene così va bene così ma dove è la bandierina sono stati forse un po' superficiali in questo frangente per come si è messa la gara devono capitalizzare al massimo le occasioni che gli arrivano ecco immobile ecco immobile messi un altro passaggio ben eseguito buona costruzione da come stanno giocando i suoi credo che l'allenatore voglia chiuderla per evitare rischi inutili negli ultimi minuti decide di giocarla in profondità messi madonna fa avanzare l'azione con il lancio lungo riceve il passaggio messi la scaglia il più lontano possibile non hanno perso tempo per recuperare palla i bappe via è finita ragazzi è finita abito però è 5 minuti 2 minuti del recupero che cazzo è 95 e mezzo 2 minuti e mezzo in più ci ha fatto suddare quest'ambito ma è andata bene e quindi ragazzi sono contento perché abbiamo vinto anche se magari chissà forse un paese si poteva cristare guardiamo le statistiche ma credo che mi sono più impegnato per cercare di fermare l'avversario dai 6 tiri in porta ragazzi contro 3 dell'avversario 12 totali contro 7 6 parate le sue ragazzi possesso palla siamo lì passaggi passaggi qualcuno di più noi siamo lì comunque ragazzi più tiri in porta il doppio ci sta la vittoria quindi adesso io vi saluto andiamo avanti vi ricordo se volete lasciare un like costa nulla gratuito grazie mille per lasciarlo e io vi do appuntamento ragazzi a domani ci vediamo sempre qua alle 17 con il prossimo incontro sperando di riuscire ad andare avanti un pochino con la classifica adesso vediamo subito dovremmo essere arrivati a 5 punti perfetto prendiamo la monettina eccoci qua 5 partiti a 5 punti ragazzi e siamo salvi ragazzi non è che fosse difficile rimanere salvi in divisione 6 adesso dobbiamo fare due vittorie per riuscire ad arrivare in divisione 6 ciao a tutti ragazzi vi saluto vi vediamo la prossima mi raccomando ragazzi in gamba e alla prossima ciao ciao